Come per il presente e per il passato, anche il futuro ha una forma progressiva. Il future progressive o continuous si forma con shall o will più be più la forma ing del verbo. Veniamo alla forma affermativa. Soggetto, will, shall, be, forma ing e complementi. Usiamo il verbo to play, giocare. Vi ricordo che shall si usa per la prima persona singolare, per la prima persona plurale, quindi I e we, anche se ormai will si usa per tutte le persone. Shall, abbiamo detto, si usa soprattutto con il significato di dovere e quando si propone di fare qualcosa. Il significato di dovere nella prima persona, shall I go, per esempio, devo andare, oppure quando si propone di fare qualcosa, shall we go, che ne dite se andiamo. Quindi la forma viene, la struttura viene, I shall be playing, I will be playing, I'll be playing. Will e shall possono essere contratti con la doppia L e l'apostrofo. You'll be playing, naturalmente la forma contratta è quella più colloquiale. He'll be playing, she'll be playing, it'll be playing, will be playing, you'll be playing, they'll be playing. Vediamo ad esempio una frase, my dog will be playing with my son all day. Il mio cane starà a giocare con il mio figlio tutto il giorno. La forma negativa si forma aggiungendo semplicemente not all'ausiliare will o shall. I will not be playing, che posso contrari in I won't be playing, oppure I'll not be playing, è indifferente, posso usare qualsiasi forma contratta io voglia, delle due naturalmente. E lo stesso con shall, vedete, abbiamo shan't be playing. Nella forma interrogativa dovrò mettere l'ausiliare prima del soggetto, in questo caso will o shall. Shall I be playing, will I be playing, will you be playing, e via. Nell'interrogativa negativa semplicemente a posto di will e shall userò won't, shan't. Shall I be playing, won't you be playing, won't you be playing with his friends this time tomorrow. Domani a quest'ora non starà giocando con i suoi amici. Show answers, molto semplici e come per il futuro semplice userò nelle risposte will soprattutto o won't nelle negative. Se ci fosse shell, naturalmente userò shell. Ricordarsi di usare sempre il pronome personale nelle risposte brevi, anche quando compare un nome nella domanda. Quando si usa il futuro progressivo? Si usa quando nelle azioni progressive che avverranno nel futuro, quindi per indicare, per sottolineare maggiormente la progressione dell'azione che avverrà in futuro. Per esempio, this time tomorrow I'll be playing tennis, domani a quest'ora starò giocando a tennis. Quindi indica un'estensione dell'azione nel corso del tempo futuro. Oppure quando l'attività futura è già programmata, come con il presente progressivo che abbiamo visto, si usa anche quando un'azione futura è stata già programmata e prevista. Per esempio, we'll be playing Saturday, giocheremo sabato prossimo. Qui ci sono cinque esercizi interattivi per la comprensione dell'argomento trattato.